Una magnifica domenica di sole con aria frizzante e panorama da togliere il fiato ha accolto all'Alpe Mola a 1800 metri di quota sui monti adolesi gli alpini del gruppo di Edolo che sono tornati dopo due anni di obbligato silenzio a celebrare ricordi dei caduti del battaglione Edolo e degli amici andati avanti. Per l'occasione è stato festeggiato con tutti gli onori Ugo Balzari, nato a Milano il 3 ottobre 1920, partito nel 1942 per il fronte del Don, alpino del battaglione Monte Cervino, sciatore portaordini che conobbe personalmente Don Carlo Gnocchi, il beato alpino al quale è stata intitolata la chiesetta in Mola non appena la chiesa ne ha annunciato la beatificazione. Sì effettivamente non vedevamo l'ora di poter riprendere la nostra manifestazione in Alpe Mola che era ferma da due anni caso la pandemia, oggi fra le altre cose con i 100 anni di Ugo che gli compirà fra 36 giorni e con la sua presenza ci ha fatto veramente orgoglio. Un orgoglio che allargo anche al coro Ana di Valle Acamonica, alla banda musicale di Sonico, a tutti gli ardetti, più di venti che gli ardetti presenti nelle varie zone della valle ma anche dalla Bergamasca, dal Veronese, dal Piemonte, proprio per omaggiare i 100 anni di Ugo Balzari, reddice di Russia. Non dimentichiamoci che poi lui ha voluto e insistito, con giusta ragione, io veramente l'ho fatto col cuore, dedicare un piccolo monumento alla mamma di tutti i caduti, dimenticata da tutti. La cosa più bella è stare vicino e stare in mezzo agli alpini, quindi non solo quelli del gruppo di Edolo, ai quali sono particolarmente legato perché sono tesserato a Edolo, ma anche quelli dove ho svolto un po' il mio servizio sacerdotale, quindi gli alpini di Breno, Pescarzo, Astrio, prima a Montirone, quindi si cerca di stare in mezzo agli alpini perché sono una grandissima risorsa di servizio, di amicizia e di volontariato nelle nostre comunità. La cerimonia è stata onorata dalla presenza del comandante del battaglione Morbegno, del vice comandante della base logistica di Edolo, del maresciale dei carabinieri di Edolo, dei rappresentanti delle associazioni combatentistiche ed arma, con i rappresentanti di molti gruppi e delle sezioni di Valle Camonica, Brescia, Bergamo e Valsesiana. Alla messa, presieduta da Don Claudio Sarotti, cappellano del gruppo di Edolo e concelebrata da Don Luca Danesi, curato dell'unità pastorale di Edolo, salutato con affetto perché a giorni raggiungerà Arrovato, sede della sua nuova missione, hanno partecipato oltre 500 persone, tra cui molti cittadini saliti in molla per onorare gli appini ed il reduce Ugo Balzari.